Ilari sono le due di notte hai visto fuori quanto è buio guarda ma quale giorno ila è buchissimo cioè ragazzi abbiamo fatto le due di notte eravamo a casa di mamma giulia feghiara abbiamo giocato abbiamo fatto ora siamo tornati stanchissimi adesso io mi metto a dormire perché non ce la faccio veramente più proprio ho troppo sonno e poi ragazzi è buchissimo allora dobbiamo pubblicare il video ti ricordi? Ilari sono le due di notte Ilari lo possiamo pubblicare domani mattina ormai mettiamoci a dormire dai Ilari io mi metto a dormire va bene? scusa ma c'è unghierosa che ti l'ha fatta eh le unghierosa me le ha fatte te cioè secondo te sembra normale ma che comunque io che metto a dormire volare un parfale Ilari sono le due Ilari ho detto basta voglio dormire voglio mettere un volare un parfale Ilari voglio dormire buonanotte non ce la faccio più oh sono stanco va bene va bene mettiamoci a dormire eh vieni buonanotte spengo la luce a dormire a dormire a dormire a dormire a dormire a dormire ma cos'è? papà ehhh Cos'è? Ilari che cosa hai sentito? ho sentito tocca Ilari non ti carolate Ilari dai non mi fanno il bosio è pure da tardi Ila, 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 per favore Ila, aspetta, aspetta, vado a vedere Ok? Ok? So, do Ila, Ila? Ila, aspetta, vado a vedere Ila, aspetta It's a very necessity Buk, it's a small business Monop konuş It's a little later Ila, aspetta, do the rest Ila, aspetta, I said It's a little later Ila, aspetta, so un martello guarda un martello guarda un martello guarda un martello ferma, non è il martello ferma, accosta la volta ma che c'è per fare? che questo ci fa una volta in testa Adesso Vieni qua Qual è il numero della polizia? Chiamano la polizia Pronto? Pronto? Rispondi Pronto? Pronto polizia? Vi prego venite Non lo so Venite Ragazzi è finita Ma va Non ci penso io Spruzzacqua Io dico Ti sembra questo un attrezzo necessario Per ammassare un ladro? Per scappare da un ladro? Secondo te è uno spruzzacqua? Volevo si spaventa Ascoltami L'unico modo è fare una cosa Ascoltami Adesso noi apriamo la porta Ci nascondiamo sotto il letto Lui entra e noi scappiamo Papà Se non ci vedevo più Ti ho voluto bene Ilari Ma ci dobbiamo farcela Anche questa volta Andiamo sotto Andiamo Nascondiamoci Nella casetta Nella capanna Vieni Nella capanna Entra nella casetta Io spengo la luce Ok? Entra Ilari Apri Apri Ma Ilari Ma che fai adesso di mettere a leggere un libro? Sì Ma ti dico una storia Ma quale storia? Ma hai capito che c'è un lato dentro casa E questo ci vuole portare via? Rosa ma vieni qua Ma hai capito che c'è un lato dentro casa Papà Ilari Siamo salvi Ilari Finalmente ce l'abbiamo fatta Papà Papà Adesso Ilari dobbiamo solo cercare di chiamare la polizia Ilari Ilari Guardi Stupida Guardi Ilari Ilari Cos'è? Oddio Ilari 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 Lasciala Lasciala Ilari 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 Dimmi No Sono segreta Cosa? Ilari È svenuto Ma che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? È svenuta? Ho fatto una squaggia Con una puzza Va beh Esci 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 Corri Ma Mia Mia Fuori 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 Ilari Ilari Non ce la faccio più Troppo paura Tu hai capito che siamo rimasti fuori casa nostra o no? Dentro c'è uno Adesso è importante che siamo salvi Adesso facciamo una cosa Chiamiamo la polizia Intanto Il lato è dentro casa Lo facciamo catturare E noi possiamo ritornare nella nostra casa Ok? Ma però io ho paura Ilari Adesso Ascolta Ilari Ferma Ormai siamo salvi Siamo usciti fuori da casa Non succede nulla Adesso io chiamo la polizia E tutto finisce Ok? Dimmi il numero della polizia 100 4 9 4 9 4 9 0 2 0 2 0 9 0 0 Ilari Questo è il numero della pizzeria Ma che cosa dici? Ma che momento di... Qual è il numero della pizzeria? Il numero della polizia 112 Ok 112 112 Pronto Polizia Ascoltatemi bene Siamo io E Ilari Sì sì Siamo Stefano Ilari Will di Youtube Sì A me non mi frega niente Che lei è iscritta al canale Mi ascolti Allora Praticamente Siamo fuori casa nostra E c'è un lato E c'è un lato E c'è un lato Aiuto Aiuto Tu ma salmi Salmi Hilary Hilary Lascia Scuriccia Hilary Hilary Ragazzi Aiutatemi Ragazzi Aiuto Ci vediamo un altro video Adveo No